Due cicli di conferenze e tavole rotonde, tre esposizioni, uno spettacolo teatrale con i Papu, la riedizione del volume Lino Zanussi, attività per le scuole. Questo è quanto propone da aprile a gennaio 2017 da Zanussi a Electrolux, 100 anni di industria, 100 anni di storia. Cartelloni di eventi organizzato dal comune di Pordenone in collaborazione con Electrolux, provincia di Pordenone, comune di Porcia e unioni industriali di Pordenone. Per ricordare i 100 anni di attività delle industrie Zanussi, oggi Electrolux. Perché è importante ricordare questa storia? Ce lo spiega l'assessore alla cultura del comune di Pordenone, Claudio Cattarruzza. Zanussi Electrolux è un'azienda che ha caratterizzato profondamente le vicende non soltanto industriali, ma anche economico e sociali del nostro territorio, per cui ha contribuito in gran parte da prima con la Zanussi e successivamente con il subentro di Electrolux alla ricchezza del nostro territorio. Per cui ci sembrava importante celebrare questo centenario in maniera adeguata, cogliendo anche l'occasione per rileggere un po' quella che è stata la storia della nostra realtà cittadina e territoriale in questi 100 anni. Grazie a tutti.